Uffa, wow, 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 oddio, che paura Ciao amici e benvenuti in questo nuovo fantastico video delle UHC Random Ci troviamo in un altro fantastico UHC Random Però siamo nel server FluxPvp in cui ci ho fatto pochi video Perché era troppo difficile e la modalità non mi piaceva tanto come era organizzata Adesso è uscito un mega aggiornamento gigantesco nuovo in questa modalità E adesso sembra tanto come quello dell'altro server Uh, che bello, cos'è? Oddio, oddio, cos'è sta roba? Ho trovato, non ci posso credere, che fortuna La terra senza erbetta ci dà i minerali Ma guardate che fortuna, non ci credo Ok, il server mi piace tantissimo, il server mi piace tantissimo Ma non ci posso credere Abbiamo già trovato quello che volevamo trovare, ma che fortuna Ho letto nei commenti che qualcuno, in chat che qualcuno aveva scritto che tipo La legna la prendiamo dai cactus, infatti andiamo subito a controllare se questa cosa è vera Però abbiamo già capito come farci i minerali preziosi Le mele d'oro e anche tanti bei libri insciantati Vediamo, vediamo, sì La legna la prendiamo da questi bei cactus Quindi spacchiamo un po' di legna che ci facciamo crafting table E poi facciamo qualche sticks e ritorniamo subito in caverna Che ci scaviamo tutta quella terra Che facciamo tanti bei minerali A 12 minuti parte il pvp A 17 minuti parte il dead match Se vi piace questa modalità fantastica e vi diverte Supportatela con un bel mi piace E iscrivetevi al canale premendo il tasto rossi iscriviti Ma guardate che fortuna Sono stato fortunatissimo in questa partita Sono già fortunato Quindi stiamo attenti È la prima volta che provo questo nuovo aggiornamento E quindi sto testando per la prima volta l'aggiornamento e la modalità insieme a voi Quindi stiamo molto attenti Rimaniamo concentrati Abbiamo anche cambiato mouse Quindi devo vedere se riesco a cliccare velocemente con questo mouse Perché è la prima volta che cambio mouse dopo 6 anni Sì, non sto scherzando Ho lo stesso mouse da tipo 6 anni Adesso l'ho cambiato Uh, diamanti, diamanti, sì, diamanti, diamanti, diamanti Diamanti preziosi Perfetto Ok Abbiamo trovato un po' di cose Grande scavatore Has made the advancement Diamonds Ok Infatti in questo server si possono sapere gli achievement che prendono le altre persone Lo so, è una cosa un po' strana Uh, qualcuno ha trovato uno sharpness 5 Perfetto Dobbiamo puntare subito a farci i libri migliori e enchantarci Perché è molto probabile che qua tutti si enchanteranno con le cose migliori Teniamo i lapislazzoli Perché non so se in questo server servono i lapislazzoli per enchantarsi con l'enchanting table Però noi andiamo direttamente con l'envil Quindi dobbiamo farci un mucchio di ferro per fare l'envil Ma tanto il ferro non lo sprechiamo perché tanto ci facciamo direttamente in diamante Visto che è possibile trovare dei diamanti Quindi dobbiamo semplicemente raccogliere tutti i libri Perché non ho il tempo di controllarli E non voglio sprecare tempo prezioso Perché probabilmente in questa partita ci sono persone forti Non so se qua in questo server le persone sono forti nel pvp o no Quindi dobbiamo comportarci come se fossero tutti fortissimi e spaventosi Qua c'è il ferro e non capisco anche perché L'ho buttato per sbaglio O abbiamo tipo già uno stack Uh abbiamo già uno stack Fantastico Abbiamo già uno stack Perfetto Non so il perché ma siamo già rimasti in pochissimi E quindi Boh non ne ho idea sinceramente del motivo Allora facciamo una cosa Mettiamo ordine nel nostro inventario Che abbiamo troppe cose inutili E buttiamo tutte le cose che non ci servono Abbiamo un po' di oro Abbiamo mele d'oro Dobbiamo semplicemente trovare delle mele OP se si possono trovare Perché non so se si possono trovare le mele OP Abbiamo 8 diamanti e 64 di ferro Ci facciamo quindi tutto quello che vogliamo Cos'altro ci Ah si giusto Controlliamo Allora Fire Aspect lo tengo Controlliamo tutti i nostri libri inchantati E buttiamo quello che non ci serve Ok Abbiamo trovato semplicemente un Fire Aspect 2 Devo trovare uno Sharpness 5 Come ha trovato quel ragazzo là Però aspettate la terra con l'erba da qualcosa No non da niente di interessante Quindi bisogna per forza scavare la terra senza erbetta Qui non prendiamo niente Devo trovare anche un modo per fare velocemente la legna Perché se no non riesco a farmi abbastanza legna Perché voglio farmi un po' di crafting table Per sicurezza che non si sa mai Però spacchiamo tutti questi fiori Perché forse questi fiori potrebbero darci blocchi di diamante Oh ma perché Cookie non sta zitto Ha detto a tutti che la dirt è OP Non doveva farlo Allora continuiamo Continuiamo a scavare Continuiamo a scavare Facciamoci diamanti mele d'oro Cerchiamo di trovare queste benedette mele OP Che ci possono salvare la vita E niente Prepariamoci a farci full diamond Che è quello che voglio fare Avete visto Stiamo prendendo tantissimi minerali nella nostra prima partita Sono contentissimo di questo E spero che il video vi piaccia Perché voglio fare tante belle uccisioni Non ci sono tante persone Perché l'aggiornamento è appena uscito E quindi non ci sono tante persone Però cerchiamo comunque di fare una partita interessante Con tante belle uccisioni Ho trovato vari libri Enchantati come Protection 3 Protection 2 Protection 4 Sharp Nessuno E Fire Aspect 2 Non ho trovato un Fire Aspect 5 E va bene così Però voglio vedere se riesco a farmi Dei blocchi d'oro Per farmi Oh Mi sono dimenticato Non abbiamo una mela d'oro Comunque Nel frattempo Adesso possiamo farci una mela OP Però voglio capire come farmi l'esperienza Qua ci sono i mob in caverna Però mi sembra un posto pericoloso Avete visto che ho scavato veramente tantissimo Per cercare di trovare qualcosa Come tanto oro e delle mela OP Non ho trovato neanche una mela OP Però adesso sto messo full diamond Devo trovare l'esperienza Quindi devo capire come fare l'esperienza Il bello di questo server è che i mob spawnano in caverna Quindi possiamo uccidere i mob Però quella caverna mi sembrava un po' pericolosa Solo che Facciamo una cosa Entriamo in una di queste caverne Perché non possiamo perdere tempo a cercare Perché qui il PVP è diverso Si vedete trasportati quando parte il deathmatch Cosa? Gli zombie Wow Gli zombie danno tanto loot interessante Wow Fantastico Allora Abbiamo fatto quasi un livello Facciamo una cosa Torniamo dove eravamo E facciamoci subito tre livelli Perché voglio farmi almeno una Fire Aspect Perché se in questa partita nessuno ha le mela OP Con la Fire Aspect posso fare tanti bellissimi danni Però devo muovermi perché sono in ritardo E io ho perso l'entrata Eccola qua Qua c'è tipo una caverna In cui possiamo andare Speriamo di non esplodere per un Creeper Qui c'è qualcuno No non c'è nessuno Facciamo una cosa Avviciniamoci subito Cosa? Eh però Uuuuh Alcuni dicono che hanno tante mela OP Qualcuno c'ha 6 mela OP O qualcuno altro c'ha 4 mela OP Dobbiamo stare attenti Perché a quanto pare Le mela OP Le altre ce le hanno sicuramente Sono io che sto messo veramente male Qui devo capire se possiamo scendere No I mob sono piazzati tutti qui sotto Il problema è che c'è anche il Creeper E sinceramente non mi va di esplodere Perché non so come scendere In quella caverna Senza esplodere male Quindi stiamo attenti Allora Uuuuh Ma non ci credo Tipo anche la Gravel Fa Da robe interessanti No vabbè lo sapevo che esplodeva Uffa Uuuuh Uuuuh Oddio Che paura Ok ok Dai 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 Facciamoci i livelli Facciamoci i livelli che vogliamo Vediamo se Se droppa anche una mela C'è Ci sono delle mele OP No non ci sono mele OP Dove è lo skeleton Ecco qua lo skeleton Perfetto Tre livelli Tre livelli E veniamo teletrasportati adesso Come quattro livelli Non ci posso credere Perché quattro livelli Perché chiede quattro livelli Nooo Non posso Uuuuh Un coso Oh cacchio Oh cacchio Uuuuh Facciamo Perfetto Livello 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 Ok Ho preso i livelli Ho preso i livelli Ho preso i livelli Mamma mia fantastico Ma cosa Ma non veniamo teletrasportati Cosa Ma io pensavo che si venisse teletrasportati Che cosa è successo Ma non ci posso credere Non si viene teletrasportati E io che pensavo di essere teletrasportato Oh fra quattro minuti si viene teletrasportati Quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo Per continuare con gli enchant Perfetto Allora cerchiamo di applicare anche tutti gli altri enchant protection Così siamo abbastanza resistenti E cerchiamo di trovare delle mele Perché le mele ci servono Per cercare di fare delle mele OP Perché le mele OP ci servono Ok Possiamo farci solo una mele OP Però va bene così Uh che figata Allora siamo rimasti in otto E intorno a me non penso che ci sia qualcuno Quindi adesso ci togliamo questo E ci facciamo protection Oh mio dio Non è possibile Non è possibile Cioè i livelli Cioè mi richiede tanti livelli Enchant army E ho paura di perdere tempo Perché io vorrei farmi qualche uccisione Quindi sono sempre dubbioso Tra il fare o l'enchant army O semplicemente andare a cercare qualcuno da uccidere Che possa ucciderlo facilmente E quindi non so cosa fare Non so cosa fare Perfetto Uh perfetto Allora Qua c'è qualcuno Sì no Non c'è nessuno Facciamo almeno un protection 4 Poi ci facciamo Un bel protection 2 Neanche questo possiamo fare Vorrei vedere se posso applicare Uno sharpness 1 alla spada Neanche questo Ok mi servono tipo 4 livelli Per fare protection e sharpness Oh mio dio Cos'è sta roba Wow Sono tantissimi Wow Ok Peccato che sono tutti morti Volevo farmi tutti questi livelli Perfetto Mi sono fatto tipo 3 livelli Erano tantissimi mob Ne sono spawnati tanti 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 Allora Qui c'è qualcosa che è spawnato Sì però se piazzo le torce Naturalmente non spawna niente Perfetto Ho piazzato l'ambile in tutta la caverna Quindi ovviamente posso Enchantarmi dovunque Allora Qui Questi li posso uccidere Sì Perfetto Morite Morite E adesso qua voglio passare Perché qua ci sono tanti mob Che sono spawnati Guardate Guardate quanti livelli Che ci facciamo Perfetto Ci siamo fatti tipo tanti Belli livelli Allora Qualcuno ha trovato pure Un totem of undying Io non l'ho trovato Niente Allora Wow Mamma mia Mamma mia Sharp nessuno Adesso basta Mi sa che fra poco esco Perché voglio Fare un po' di kills Protection 3 Per applicarlo sicuramente Mi richiederà 4 livelli Quindi Andiamo direttamente A cercarci 4 livelli In questa caverna E mi sa che fra poco Possiamo anche andare Perché tanto abbiamo full prot E possiamo fare qualcosa O direttamente aspetto Il deadmatch Come stanno forse facendo tutti Perché secondo me Nessuno sta morendo Infatti siamo rimasti Siamo ancora in 8 persone Probabilmente stanno tutti Puntando A farsi Naturalmente Che cosa Farsi i più enchant possibili Per giocarsela bene Al deadmatch 16 secondi al deadmatch Finalmente possiamo iniziare a combattere Abbiamo tutte queste cose Ho svuotato l'inventario Così se uccido qualcuno Li rubo qualcosa Abbiamo questa spada Come potete vedere Prendo l'acqua Se ce la faccio Ok ce l'ho fatta E adesso possiamo partire Perché Mamma mia Andiamo al deadmatch Andiamo al deadmatch C'è la mia prima partita In assoluto Spero che vi stia piacendo Lasciate un bel mi piace Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Siamo tutti in file Che cos'è sto splatoon? Splatoon 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 Mi sembra un po' messo male La cesta La cesta la cesta Il finale sicuramente conterrà E sicuramente conterrà cose impressionanti Vorrei prendere quella Ma voglio farmi almeno una kill Almeno una me la voglio fare Quindi mi sa che punto Direttamente su splatoon Che potrei ucciderlo Vediamo un po' Quattro secondi Quattro secondi Ok Facciamo Andiamo 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 Perfetto Mi hanno spinto Perfetto Mi hanno spinto Spingetemi Ok Vedete 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 Ma perché è così resistente Ha mangiato la melopi Non ci credo Ha mangiato la melopi Ma non ci posso credere Questa qua c'ha le melopi Non ci posso credere Si è mangiata le melopi Faccio finta di aver paura Perfetto E adesso Cerchiamo di attaccarla Ecco perché non prende più danno Ah ma perché qui tipo i cuoricini massimi Sono 20 Non 100 Come nell'altro server Quindi mi ero confuso Pensavo che stesse morendo Invece no Si è mangiata la melopi Adesso qua Prima o poi dovrebbe finire L'effetto della melopi E potrei ucciderla Ok No 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 Guardalo come scappa Ah sì 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 Questa c'ha le melopi Questa c'ha le melopi Ok Perfetto Ok Guarda questo Guarda questo Oh mio dio L'ho uccido L'ho uccido Questo qua c'ha le melopi Questo c'ha le melopi Per questo l'ho targettato L'ho targettato semplicemente Perché questo mi sembra Che abbia le melopi Non ci credo un cuore Un cuore Cos'è quella roba lì? È un mostro È un mostro È un mostro Dai 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 che lo prendiamo Dai che lo prendiamo Ok il blocco forse ci dà spinta Sì Ci dà spinta Non ci credo che bello Sono i cadaveri questi Ma che cosa bella Ok Questo server mi piace tantissimo Scrivetemi nei commenti Se vi piace questo server Perché mi sa che ci faccio Tanti bei video Cioè guardate quanto è diventato Bello il server Fantastico Ma che bella cosa Quelli sono cadaveri questi Le ceste Non ci sono le ceste Direttamente Lutate le persone Che avete ucciso Ma che cosa bella Ma che cosa bellissima C'è un modo per farsi tipo qualcosa Come non so Posso craftarmi qualcosa Se posso Se volessi Cioè posso craftare qualcosa Se ce la faccio Non penso proprio Allora Qui Cerchiamo di prendere questa Che la voglio per me E cerco di continuare a prendere questo O forse prendo questo Se ce la faccio Oh mio dio Fa dei danni pazzeschi questo Fa dei danni pazzeschi Ok Perfetto Ok Mi riprendo questo E scappo via Perfetto L'abbiamo un po' rallentato E adesso Dobbiamo continuare a giocare In questo modo Però guardate quanta gente Che c'è qua Cosa stanno facendo questi Questi vogliono craftarsi qualcosa Adesso scappo da queste parti E provo a vedere Se posso uccidere qualcuno Perfetto Adesso Questo qua Lo spingo indietro E faccio un po' di ping pong Questo qua Comunque c'è la melopi E quindi Se riesco ad ucciderlo Prima che se la mangi Sarebbe buono Però Oh c'è Splashpoon Splashpoon È ancora in vita Andiamo da Splashpoon Andiamo da Splashpoon Perché Sì C'aveva le melopi Però Secondo me Adesso non ce l'ha la melopi E quindi forse possiamo ucciderla Uh Qualcuno è stato ammazzato A parte che c'è A parte che c'è quel ragazzo là Che ha la spada Troppo forte E infatti Prima mi aveva quasi Shottato il ragazzo Con la spada forte E Allora Vediamo qua Se possiamo fare qualcosa Il problema è che C'ho Sharp nessuno Io non faccio tanti danni Con la Sharp nessuno A parte che uno C'è anche l'elmetto in ferro Che cosa sta facendo Quello con l'elmetto in ferro Adesso Qui Ci prendiamo Questa e la uccidiamo E vediamo un po' Che cosa riusciamo a fare Oh Ma secondo me Ha mangiato la melopi Ecco perché Ha mangiato la melopi Oh Ha mangiato la melopi Oh Capito Sapete che faccio Ah non c'ho le mele Non c'ho le mele Ecco perché Non posso fare niente Pensavo di craftarmi Le mele Le mele opi Ma sapete cosa Mi sono dimenticato Di controllare Nel cadavere Degli altri C'erano delle mele Delle mele normali Mi sono dimenticato Scusate E' la prima volta Che gioco a questo server Ed è una goduria pazzesca Troppo divertente Troppo Troppo divertente Splash Pun Comunque Cos'è che fa Qui nei dintorni Vediamo Aveva mele d'oro Combine Uh Possiamo fare la testa d'oro Ci possiamo fare la testa d'oro Ma a parte che Guardate come l'abbiamo spaventato Si Vuole fare qualcosa Però Non lo lasciamo No Non si può fare Non si può fare Devo fare così Perfetto Abbiamo fatto tipo Una testa D'oro E vediamo un po' Cosa possiamo fare Con la testa d'oro Mangiamo la testa d'oro E vediamo che cosa ci da di interessante Perché forse ci da qualcosa di interessante Peccato che questo faccia troppi danni Fa troppi troppi danni Guardate Guardate Si è pure mangiato la mele opi Adesso io qua Vedo cosa posso fare Contro questi due Massimo Lo spingo addosso all'altro E vedo che posso fare Uh Aiuto Si è fatto un flame No 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 Attenzione scappiamo 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 Non voglio speccare la mele opi Quindi stiamo attenti Cosa facciamo Quindi Vediamo se possiamo attaccare Splash punne Però splash punne è forte E poi mangia di continuo Quelle mele opi Ma com'è possibile Ne ha tantissime Uh Allora Concentrazione Qua qualcuno Lo devo uccidere Primo o poi Non so chi uccidere Ma qualcuno Lo devo uccidere 21 Uh Secondo me sta prendendo danno Secondo me sta prendendo danno Perfetto Secondo me sta prendendo danno E non può mangiare la mele opi Perfetto Oh dai 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 Perfetto Nooo Ha mangiato la mele opi Ma non ci posso credere Ha mangiato la mele opi Siamo rimasti in 4 E non sto capendo Chi uccidere Perché sono tutti forti Dovrei farmi Un libro Oh mio dio C'ho 14 livelli Sapete che faccio Spero che ci sia ancora Qualche cadavere Non ci credo I cadaveri sono spariti Non ci posso credere Perché sono così stupido Potevo prendermi Qualche libro Sharpness 5 O così via Ed inchantarmi la spada Ho 14 livelli Eh Cosa posso fare Adesso devo per forza Aspettare che qualcuno muoia E andare subito A lutare le sue cose Allora Questo gli sarà sicuramente finito L'effetto della mele opi Quindi voglio ucciderlo Se ce la faccio Questa volta Me lo voglio uccidere Però lo devo spingere A sinistra Perché il pvp L'hanno cambiato In questo server Come potete vedere Sembra quello della 1.15 E quindi è strano Cioè Continua a cliccare Ma Non Non si blocca Il personaggio Invece continua a saltellare E scappa via A quanto pare In questo pvp Se io colpisco qualcuno Lui rimbalza via E continua a correre Ancora più velocemente Quando nel pvp vecchio Non succede questo Spingimi 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 Dai 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 No che cacchio A parte che guardate qua Stanno tutti per morire Stanno tutti per morire E quello è ritornato Anche in vita Guarda lì Guarda lì Facciamo una cosa Guarda Guarda uno 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 C'ha uno C'ha uno C'ha uno questo C'ha uno C'ha uno No E' tornato in vita E' tornato in vita E' tornato in vita E' tornato in vita Sii L'abbiamo ucciso Alleluia Ma che cosa Gli enchant non ci sono Ma Com'è possibile Che non ci siano gli enchant Perfetto Finalmente l'abbiamo uccisa E adesso Questo che ha usato La cosa non ce l'ha più Non ce l'ha più Non ce l'ha più Non ha più Niente Questo Secondo me questo Non ha più la meno P Perché vedete Tiene il totem Fandang in mano E vuole tornare in vita Guardate 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 Lo uccido di nuovo E provo Ah no Ma guarda che schifoso Che si è rubato la mia kill Non ci posso credere Non ci posso credere Ok Vediamo cosa posso fare Perfetto Facciamo una cosa Continuiamo Continuiamo così Continuiamo così Perfetto Vediamo cosa possiamo fare No Non posso fare niente Sapete che faccio Provo a piazzare un libro Potentissimo Che ho nell'inventario Da qualche parte Allora Vediamo un po' Cosa posso fare Io prima mangio la melopi Perfetto Controllo Che libro No Che schifo C'è sharpness 5 C'è sharpness 5 C'è sharpness 5 Perfetto Ho piazzato sharpness 5 Non ci posso credere Avevo sharpness 5 E poi Cos'altro abbiamo qua Mending Fire aspect Sweeping edge Non abbiamo nessun libro Interessante Quindi diciamo che Vado da lui Perché secondo me Vuole lutarsi il body Di quell'altro Lo sapevo E ci avviciniamo Ok Lago d'Apple Al cooldown Come potete vedere Quindi dobbiamo stare attenti Perfetto Guardate 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 Adesso si che ragioniamo Con la sharpness 5 Vieni qui Che cosa vuoi fare Ora senza Con la sharpness 5 Vedi che hai paura di me Questo qua Tipo è il ragazzo più forte Del deadmatch Infatti fin dall'inizio Ho capito che questo S'avre stato forte Che è successo Ma non ci posso credere Non ci credo No Ma che cosa è successo Il server dove eravamo È stato restartato Ma non ci credo Che cosa bruttissima L'avrei sicuramente ucciso E vinto la mia prima UHC Questa è la prima volta Che giocavo E avrei fatto La mia prima vittoria No Ma che cosa brutta È un peccato A quanto pare La modalità è così nuova Che i server Devono ancora settarli E aggiustarli Non ci credo Stavo vincendo Peccato Comunque Avrei sicuramente vinto Perché avete visto Che ora Li facevo tanti danni Quindi probabilmente A lungo andare L'avrei distrutto Peccato Avevo anche tante belle Mele OP Comunque Spero che questo server Vi sia piaciuto E ovviamente Faremo altre belle partite Spettacolari Iscrivetevi al canale Premendo il tasto Lo s'iscriviti E ci vediamo A un prossimo episodio Ciao ciao Ciao